Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca, incidente questa mattina alle 11.07 a Ponticino. I mezzi dell'emergenza e urgenza sono intervenuti per prestare soccorso a un 57enne della zona rimasto ferito in uno schianto frontale fra due auto. L'episodio si è verificato lungo la via nazionale, l'uomo è stato trasportato a Siena all'ospedale Lescotte in codice rosso dalla misericordia della Valdambra, intervenuti sul posto anche i carabinieri di Arezzo e i vigili del fuoco. Intercettati in A1 con due chili di hashish in auto a scoprire i due trafficanti, la polizia stradale di battifolle durante un controllo di routine. Sono stati intercettati lungo l'autostrada del sole con due chili di hashish, per questo sono finiti in manette due trafficanti di droga. Erano le 16.30 dello scorso sabato quando una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di battifolle ha fermato per un controllo un'auto, un'Audi con targa italiana e con a bordo due giovani. I due nati in Albania ma residenti a Savona da anni non hanno fornito delle convincenti spiegazioni riguardo ai motivi del loro viaggio e pertanto è scattata nei loro confronti una perquisizione personale poi estesa anche all'auto. A prima vista sembrava tutto a posto ma poi approfondendo il controllo gli agenti hanno cercato sotto il tappetino del sedile del passeggero anteriore. Alzata la moquette è saltato fuori un capiente sottofondo nel quale erano nascosti due panette di cielo fan da due chili di hashish per un valore complessivo di oltre 50.000 euro sul mercato dello spaccio. Per entrambi sono scattate le manette, sono stati condotti presso il carcere di San Benedetto. I due poi hanno anche raccontato di non essere entrati al casello a uno di Arezzo ma quello di Valdarno perché avevano notato la presenza di tanta polizia e temevano un controllo, un'accortezza che però non gli è servita ad evitare l'arresto. Il servizio per il trasporto dei pazienti oncologici che devono necessariamente essere sottoposti a radioterapia o chemioterapia in ospedali è a rischio grazie a una delibera della regione toscana che riduce di fatto le categorie dei malati che possono beneficiare di questo servizio. A fare questa denuncia è il Calcit. Sentiamo. Trasporti per chemio e radio a rischio per centinaia di eretini malati di cancro. Questo è l'allarme che arriva dalle associazioni di volontariato che ogni giorno accompagnano e assistono i pazienti oncologici. La regione toscana non può neanche cominciare per risparmiare sempre dal malato più fragile no? Perché comunque vada il malato oncologico, quello che sta meglio non sta bene. Una delibera della regione toscana dal primo novembre infatti ha ridisegnato le regole del trasporto sanitario, riducendo di fatto il numero dei pazienti che possono continuare a farci affidamento. La delibera escluderebbe tutti i pazienti che possono camminare da soli. Quando una persona già sta male e magari è in uno stato avanzato della cura, poi dopo tre o quattro ore di chemioterapia deve tornare a casa, insomma non è che si possa dire che uno torna a casa con le sue gambe. Gran parte degli interessati sono infatti i pazienti oncologici che devono raggiungere l'ospedale e il reparto per chemio e radio, pazienti non in condizioni precarie ma pur sempre alle prese con la fase più delicata dopo l'intervento chirurgico e che non hanno la possibilità di farsi accompagnare dai familiari. Bisogna stare attenti, non si possono fare magari dei liberi che valgono per tutti, ovviamente bisogna guardare caso per caso dove abitano perché mi immagino che un cittadino di Montemignaio, di Sestino o di Raggiolo abbia più difficoltà a raggiungere il centro oncologico che un cittadino di Arezzo, perciò insomma sono cose delicate che bisogna, se c'è bisogno di vedere e di fare qualche modifica ovviamente il Cacit ne prende atto e ci muoveremo. Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali della piccola Caterina, figlia di Cristina Rosi, morta a soli due anni e mezzo giovedì scorso al pediatrico Meyer di Firenze e sottoposta poi ad autopsia alle scotte di Siena. Chiara Sadotti. È il giorno del dolore, dell'ultimo saluto alla piccola Caterina. Oggi nella chiesa di Alberoro, i funerali, l'intera comunità si è stretta al dolore della famiglia. La morte di un bambino ha il potere di provocare una immediata e generale mobilitazione di cuori e si uniscono e diventano un solo progetto. La bimba di due anni e mezzo era nata prematura con un barto cesario d'urgenza dopo che la madre era stata colpita da un infarto. Sia lei che la mamma Cristina avevano riportato gravi problemi neurologici. La piccola si è spenta lo scorso giovedì all'ospedale pediatrico Meyer dopo una serie di complicazioni. Il PM Marco Dionica aperto un fascicolo sulla morte della bambina con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e che vede indagati quattro medici aveva disposto l'autopsia. Dopo l'esame svolto al Policlinico Senese delle Scotte, la piccola era potuta tornare a casa dove amici e familiari oggi l'hanno salutata per l'ultima volta. Una vita tanto breve quanto in salita, quella della piccola Caterina. La sua storia aveva commosso e toccato molti. La solidarietà è stata infatti la chiave delle tante iniziative per aiutare la bimba e la madre. Hai aiutato finora, incontro molto di per sempre reso le cose difficili e ci sei riuscita. Grazie a tutto l'amore che sta circondando. Questo è conosciuto più di chiunque ha l'importanza della bambina. Oggi l'ultimo abbraccio fuori dalla chiesa, uno stressone con su scritto. E adesso vola libera, piccola principessa. Un nuovo all'arte medio con codice arancione è stato diramato quest'oggi per precipitazioni abbondanti a carattere di forte rovescio temporale dalla mezzanotte fino alle ore 15 di domani, sabato 10 di dicembre. Si raccomanda la massima attenzione, si consiglia di evitare spostamenti in occasione delle ore immediatamente successive agli eventi meteo più intensi. Questo è quello che comunicano e consigliano i diversi comuni della nostra provincia, fra i quali appunto quello del capoluogo Arezzo. La raccolta differenziata è increscita nell'Aretino, in Toscana la nostra provincia però è ancora terz'ultima. Tra i comuni aretini più virtuosi c'è Fogliano della Chiana con un balzo che supera il 22%. Sentiamo. Cresce la raccolta differenziata d'Arezzo con un balzo in avanti dell'1% ma si piazza comunque al terz'ultimo posto tra i capoluoghi di provincia toscani. Si tratta della classifica relativa ai dati sulla raccolta differenziata rilevati in tutta la regione. Dunque in Toscana la raccolta differenziata ha raggiunto quota 64,18% con un incremento di due punti rispetto all'anno precedente. I dati relativi al 2021 sono verificati dall'Agenzia regionale Recupero Risorse e certificati con un decreto regionale. Meglio risultato raggiunto è quello del lato Toscana centro 67,91% mentre la zona che interessa l'Aretino, ossia lato Toscana sud, si attesta al 53,3%. In totale poi sono 29 i comuni del lato Toscana sud che nel 2021 hanno superato il 65% di raccolta differenziata tra quelli invece che hanno superato l'80% di differenziata non ce n'è nessuno a Aretino anche se ci sono delle realtà particolarmente virtuose. Il comune più virtuoso della provincia si conferma infatti Civitella in Val di Chiana con il 75,74% seguito da Subbiano, Monte San Savino e Capolona confermano poi performance oltre la media regionale anche Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, Terra Nuova, Bracciolini, Lucignano e Castelfranco-Piandisco. I comuni in cui si registrano crescite più significative invece sono Fogliano della Chiana che passa in un anno dal 38,84% al 61,49% e Ortignano-Raggiolo con il più 17,87% crescita di oltre 8 punti percentuali anche per Anghiari e loro Ciuffenna. Positivo infine il dato di Arezzo con il capoluogo che segna più 1% assestandosi dunque al 51,68%. La giunta comunale di Arezzo ha dato l'ok per il calendario giostresco appunto della giostra del Saracino si partirà sabato 14 di gennaio con la cerimonia di offerta dei cedi al Beato Gregorio X sabato 4 febbraio ci sarà la cerimonia di premiazione dei giostratori e l'esposizione dei cartelloni con i punteggi marcati dai giostratori nell'ultima edizione o nelle ultime due edizioni ogni sabato 17 giugno ci sarà la 143esima edizione della giostra del Saracino in notturna e domenica 3 settembre la 144esima edizione quella in diurna con conseguente calendario delle manifestazioni collaterali secondo i consueti protocolli. A maggio invece la presentazione delle dediche delle lance d'oro delle due edizioni annuali della giostra domenica 6 agosto la consueta offerta del cero della città di Arezzo a San Donato, patrono della città. E domani sabato 10 di dicembre alle ore 17.30 presso la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo sarà presentato il volume Tesori di Arezzo a cura di Giorgio Ferri edito dalla Cartaria Aretina. In servizio. Giorgio Ferri è pronto a prendere per mani i lettori e portargli alla scoperta delle bellezze aretine. Tesori di Arezzo, opere d'arte dal 200 al 900 è infatti il titolo della sua ultima fatica letteraria. Ferri ci ha abituato tutti gli anni ad una strenna natalizia con questi volumi da collezione particolarmente belli. Questi libri sono caratterizzati da fotografie meravigliose, di altissima definizione. E nel nostro caso specifico, questo Tesori d'Arezzo, ci sono anche non soltanto tutte le cose per le quali Arezzo è importante nel mondo dal crocifisso di Cimabue alla Cappella Bacci, la vera croce, ma ci sono anche cose rare, cose che non si trovano nelle guide d'Arezzo. Abbiamo inserito anche tante tante opere meno conosciute e anche nei musei meno conosciuti, quindi non soltanto Cappella Bacci, ma anche alcune opere per esempio che sono al Museo d'Arte Medievale Moderna che sono quasi semisconosciute, oppure anche opere più recenti, quindi di Scatragli e di anche altri autori di età contemporanea, molto molto importanti. Il libro sarà presentato sabato 10 dicembre alle 17.30 nella Sala dei Grandi del Palazzo della provincia di Arezzo, assieme all'autore il professor Claudio Sartori e il giornalista Marco Botti. Passiamo alla nostra breve pagina sportiva di questa sera. Parliamo dell'Arezzo dopo l'addio a Bubbacar, annunciato ieri. Parliamo di situazione dei giocatori. In seguito ai ulteriori esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore Mattia Damiani, è emerso uno stiramento tra il primo e il secondo grado del collaterale del ginocchio sinistro, scongiurando quindi problemi al crociato. Damiani sarà quindi valutato alla ripresa degli allenamenti subito dopo Natale per stabilire i tempi di recupero. Per quanto riguarda Mattia Gadini, il calciatore riprenderà ad allenarsi gradualmente a partire dalla prossima settimana. Gadini potrebbe già essere a disposizione per la partita interna con il Poggi Bonzi, sicuramente per la prima del girone di ritorno contro l'Orvietana. E prima di chiudere con il nostro telegiornale, vi ricordiamo che dopo di noi andrà in onda la nostra nuova rubrica Gustar, un viaggio attraverso il gusto, i piatti della nostra buona cucina, a cura di Edoardo Carrai insieme al presidente regionale Federcarmi di Confcommercio Alberto Rossi. E questa è veramente l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, buona serata con i programmi di Arezzo TV. Grazie a tutti.